E' Cadorna, manda dire che si trova là sui confini e ha bisogno del... E' Cadorna, manda dire che si trova là sui confini e ha bisogno degli alpini per poterci avanzar. E' Cadorna, manda dire che si trova là sui confini e ha bisogno degli alpini per poterci avanzar. Novantotto su coraggio che le porte sono bombardate. Tra fucile e cannonate il nemico cederà. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.